Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo nuovo aggiornamento con la tendenza medio-lungo termine. Il mese di luglio inizierà l'insegna della vera e propria estate mediterranea sull'Italia, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali. La permanenza di un campo di alta pressione garantirà giornate con sole protagonista e temperature tipicamente estive. Non si ravvisano tuttavia gli elementi per ondate di calore prolungate e particolarmente eccessive. Sole protagonista anche al nord e tuttavia sulle regioni settentrionali avremo maggiore possibilità di break temporaleschi a causa dell'affluenza di correnti un po' più fresche e quindi stabili dai quadranti settentrionali che porteranno quindi rovesce temporali più probabili a ridosso dei rilievi ma localmente questi potranno fare la loro comparsa anche sulle aree di pianura. Si tratta di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme per questo vi preghiamo di rimanere aggiornati come sempre sulla nostra app gratuita.